Di arti e di mestieri, è questo il titolo del progetto curato dall'Opera Sante de Sanctis con la fattoria sociale Villa Erelli, rivolto a ragazzi e ragazze con disabilità, in particolare con disturbo dello spettro autistico da 15 anni in su. Si tratta di un ciclo di laboratori che si terranno ogni venerdì dal 5 marzo al 10 dicembre 2021 negli ampi e funzionali spazi della fattoria sociale Villa Erelli a Castelnuovo Umano. Un doveroso ringraziamento va sicuramente alla Fondazione Tercas e al Comune di Teramo che hanno creduto e ci hanno sostenuto anche con un contributo, quindi grazie. Di arti e di mestieri è un progetto dedicato ai ragazzi con disabilità dai 15 anni in su che avranno a disposizione un intero pomeriggio, il venerdì dalle 15 alle 19 per poter sperimentare arti e mestieri. Infatti, guidati da operatori sanitari e operatori specializzati, potranno sperimentare la coltivazione dell'orto, l'infeltrimento della lana, la lavorazione del legno e della ceramica, un laboratorio di cucina e un laboratorio di teatro. Inoltre, a disposizione di genitori e familiari, ci sarà un percorso di parent training. Di nuovo grazie anche alle associazioni che ci accompagnano in questo percorso, la Compagnia dei Merli Bianchi, l'Associazione Naturamo, l'artista Gianni Tarli e l'azienda Agraria da Mario Feliciani. Le iscrizioni sono ancora aperte. Noi inizieremo venerdì 5 marzo 2021, dalle 15 alle 19. Vi aspettiamo!